amici buongiorno bentrovati voglio darvi tutte le informazioni necessarie per bandaid che riparte a marzo il format sul ascolto del materiale del pubblico della community e non del silvestream riparte ripartirà a marzo con una serie di puntate ancora non definita nel numero però con una differenza notevole rispetto alle due precedenti edizioni che mi hanno visto per la prima volta con un panel di altri tre addetti ai lavori nella seconda edizione quella di della scorsa estate totalmente da solo e invece stavolta tornerò in compagnia c'era un problema quando mi trovavo a commentare le canzoni di bandaid appunto di queste edizioni precedenti soprattutto quando qualcuno mi piaceva e mi piaceva tanto non sapevo a parte la pacca sulle spalle a parte il complimento fatto in live non sapevo come poterli realmente aiutare considerando che comunque per loro era già importante avere un passaggio magari di fronte a 4 500 persone immaginate la difficoltà oggi nel fare lo stesso numero di persone in un concerto dal vivo no soprattutto con i live e i locali che chiudono e che non ci sono e soprattutto che non ascoltano materiale originale e quindi ho voluto aiutare in una maniera ulteriore fornendo proprio quel tipo di risposta al semplice apprezzamento ovvero la possibilità diretta di poter lavorare io non sono qui come altri ad offrirvi il contratto con la casa discografica ad offrirvi i soldi del monte premi per poter realizzare il vostro disco il vostro demo a me non piace questo tipo di demagogia non mi piace sfruttare la musica per fare migliore il mio canale no è un po il contrario e quindi ho scelto di offrirvi un colloquio diretto di lavoro molti di voi neanche mandano i demo in giro per l'europa in giro per le etichette molti si fermano prima tanti restano in sala prove non ne escono mai più ecco io vi darò la possibilità diretta di avere nel panel di persone che giudicheranno la vostra musica oltre a me e all'ottimo michele monina siamo due addetti ai lavori lui anche un critico musicale un giornalista musicale ma vi porterò direttamente i label managers di alcune tra le etichette più importanti nazionali e internazionali ma non le major e non certe indipendenti italiane che altro non sono che non major wannabes vi porto le etichette che contano quelle che dal giorno dopo possono farvi lavorare possono portarvi in tour con altri artisti possono farvi crescere nazionalmente e internazionalmente questo va bene per tutti quelli che fanno musica internazionale va bene anche per chi fa musica italiana dovete calcolare una cosa però chi fa musica in italiano rappresenta solo una parte della mia proposta non può essere la maggioranza né un diciamo una parte consistente è importante che ve lo dica perché io voglio spingere artisti che possano esportare la nostra musica all'estero ok non soltanto che ragionino con l'idea di poter fare i soldi qui quindi ho bisogno di persone pronte a viaggiare a trasferirsi a dire ok ci sto e quindi da questo punto di vista è importante l'anagrafica se hai 40 50 anni insomma è molto difficile che possano farti lavorare molto complicato soprattutto se sei un esordiente e quindi vi porto però che cosa e che cosa vi chiedo una proposta musicale che sia coerente con quello che io suono con quello che io faccio ora molti di voi mi conoscono per youtube non per twitch e quindi molti di voi non sanno neanche qual è la musica che io spingo e che propongo e magari la confondono con le cose di cui io parlo su youtube in cui ci sono degli estratti beh io non sto cercando sicuramente per gem maneschino simili io sto cercando artisti di musica alternativa che sia folk alternativo che sia elettronica che sia hip hop che sia ovviamente rock alternativo post punk tutto quello che fa parte della mia proposta musicale jazz alternativo sarebbe un sogno vi dico però chiaramente quello che non cerco io non cerco quello che è desueto defunto che credetemi non ha speranze fuori non cerco grunge non cerco post grunge non cerco metal non cerco new metal non sto cercando il cantautorato all'italiana non sto cercando il pop non sto cercando i nuovi pinguini tattici nucleari non sto cercando i nuovi maneschi non sto cercando neanche il nuovo biaggio antonacci su questo voglio essere chiarissimo sarò io a fare la prima scrematura ascolterò solo io le cose che mandate e poi inoltrerò al programma solo le cose che mi colpiscono tutto il resto non arriverà mai a loro quindi c'è da superare prima il mio scoglio e se non sapete quello che suono vi invito a seguirmi su twitch per farvi un'idea per cercare di comprendere se la vostra proposta possa essere dentro o fuori vi chiedo di mandarmi un solo brano non mi mandate un album non mandatemi più di un pezzo perché io ne ascolto uno solo e non farò una cernita una scelta quindi scegliete anche bene il brano che mi mandate che sia rappresentativo al 100% di quello che fate allo stesso tempo vi invito a non mandarmi il vostro vecchio progetto musicale quello che facevate con la band quando avevate la band devono essere progetti attuali in essere e di persone per l'appunto pronte a mollare tutto e iniziare una nuova vita qui si tratta la musica in maniera molto seria e questa è un'opportunità di lavoro serissima costringo le case discografica ad ascoltare il vostro demo però sono delle etichette incredibili mi piacerebbe sapere che qualcuno di questi artisti un domani verrà consegnato a ribalte internazionali è chiaro nel mondo dell'alternative il mondo che io tratto e del mondo della controcultura di cui abbiamo fortemente bisogno in più è lavoro e quindi il lavoro secondo me è importante per tutti quanti questa è la mail dove dovete mandare il materiale bandaid punto candidature chiocciola gmail mi raccomando non perdete tempo voi non fate perdere tempo a me e vi garantisco che non farò io perdere del tempo ai alle persone del panel che saranno con me sono riuscito ad avere la loro attenzione sono molto fomentati su questo progetto ci credono tantissimo per primi loro vogliono scoprire musica da qui però deve essere qualcosa che abbia i requisiti necessari per quello che bandaid vuole rappresentare spero di essere stato incredibilmente chiaro c'è tempo per mandare il materiale quindi anche a ridosso della prima puntata che sarà a marzo ma anche forse dopo l'importante è avere del materiale che sia plausibile ho già iniziato a scremare perché dopo il post di oggi è già arrivata tanta roba però è arrivata anche tanta roba che non c'entrava assolutamente nulla per fortuna la maggior parte sia compreso l'idea e quindi speriamo di potervi rappresentare all'interno di questo format a partire da marzo grazie grazie grazie